Exoractics, oggi andiamo a scoprire questa bellissima Citroen C5 Aircross, 1.5 diesel 130 cv. L'allestimento è Shine, l'auto ha 46.000 km ed è immatricolata al luglio 2021. Troviamo sensori di parcheggio anteriori ed è dotata di fare il full LED, cerchi in lega diamantati raggio 18, Lateralmente abbiamo retrovisore elettrici, sistema Keyless, comode pratiche barre al tetto, vetri posteriori oscurati. Nella parte posteriore abbiamo sensori di parcheggio posteriori e retrocamera. Caratterizza l'auto un ampio e spazioso bagagliaio con luce di cortesia e doppia panca reclinabile. Internamente troviamo questi comodi sedili in tessuto misso pelle, vetri elettrici posteriori. Nella parte anteriore abbiamo display touchscreen dove appunto gestire l'infotainment con Android Auto e Apple CarPlay, clima automatico, cambio automatico 8 rapporti, accensione elettronica con freno a mano elettronico e abbiamo poi un comodo e pratico bracciolo portaggetti.